Sì, dopo Carrara abbiamo fatto una settimana un po' pesantina, diciamo, che eravamo arrabbiati, delusi anche dal risultato, perché anche la società ci aveva chiesto uno sforzo in più dopo tutti i problemi che erano venuti fuori e non eravamo riusciti ad accontentarli. Con il misto abbiamo analizzato gli errori che avevamo fatto, anche se ti dico a Carrara l'avevamo approcciato anche bene e dopo abbiamo preso quel gol a fine primo tempo che ci ha tagliato un po' le gambe e dopo il secondo tempo, secondo me, abbiamo perso l'equilibrio e con la voglia di cercare di riprendere la partita abbiamo preso un po' un'imbarcata, diciamo. Per fortuna c'è stata una reazione e sono molto contento io, ma come tutta la squadra, e siamo riusciti a portare a casa un buon risultato, insomma, a Pontevedano. Lo attendevo da tanto, è finalmente arrivato, siamo stati molto bravi a muovere la palla sul calcio d'angolo facendo il gioco a tre e poi Angelo, che ringrazio, ha messo un bel cross. Me lo auguro che sia la partita giusta, anche perché abbiamo fatto ogni tanto delle bellissime partite e dopo tutti si attendevano a un risultato positivo, comunque una continuità dei risultati e là abbiamo un po' mancato. Quindi mi auguro che domenica ci sia la possibilità anche di dare una gioia ai nostri tifosi in casa di una vittoria. A inizio anno eravamo un po' più solidi, secondo me. Dopo, forse in base all'equilibrio, abbiamo perso un po' di equilibrio e ci siamo allungati forse un po' con i reparti e abbiamo iniziato a subire un po' più di gol. Però ovviamente quando fai gol è merito di tutti, quando non prendi gol è merito di tutti, perché la fase difensiva il primo che la fa è l'attaccante e dopo man mano tutti. Penso che l'inesperienza può essere sia le prime partite, ma dopo nella lunga diventi una squadra con un po' più di esperienza e quindi non dovrebbe essere quello il problema.